Ciao Mal Ciao Io ho una sorpresina per te Un'altra? Wow, adesso ce n'è una al giorno A giorni alterni, nei giorni pari Oh, perché non c'è nessuna pari a te, sei perfetta Esattamente, sono perfetta Fatti viziare un po', dai Non hai avuto molto da piccola Me la sono cavata Non l'avevi donato al museo Non ancora, lo farò Ora vado in classe e non voglio fare tardi No, non credo No, brava, seguimi Pochi passi e... Ta-da! Ti piace? Ben! Che domande fai? Certo che mi piace È strepitoso È del mio colore preferito Io non ti ho preso niente Mi hai promesso un picnic con tutti i miei piatti preferiti Non oggi, giovedì Oggi è giovedì Niente affatto Sì, invece No, non lo è Guarda Sì, lo sapevo Se non hai preparato, me lo stesso No, 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 volevo solo prenderti un po' in giro Ho un'ultima cosa da infornare e poi arrivo E la lezione? Sono multitasking Quindi ti sdoppi Esattamente Sei la migliore È vero!